In dato adierne all'estito di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione unitamente al Comando Carabinieri Nucleo Antifalsificazione Monetaria di Roma ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale messa dal GIP presso il Tribunale di Nola nei confronti di 15 persone, tra cancerieri, operatori giudiziari, avvocati, medici ed altri professionisti, iniziati a vario titolo di corruzione, occultamento di atti pubblici, falso in atto pubblico, truffa ai danni dello Stato e depistaggio. Nei confronti di tre cancellieri e di tre avvocati è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre è stato disposto l'obbligo di presentazione alla PG nei confronti del direttore amministrativo pro tempore della Cancelleria del Giudice di Pace di Santa Anastasia ed il divieto di dimora nel medesimo comune per otto professionisti. All'esito dell'articolata attività d'indagine è emersa una prassi costante e consolidata di gestione illecita degli affari penali presso l'ufficio del Giudice di Pace di Santa Anastasia, con riferimento in particolare all'assegnazione delle consulenze terchiche dell'ufficio. Ed in vero, Cancelleri ed operatori giudiziari erano soliti garantire l'afferimento in carichi di CTU a medici, geometri e peniti assicurativi compiacenti, dietro ricompensa di denaro contante e utilità varie, quali visite mediche gratuite e tamponi Covid, buoni carburante, lavori di ristrutturazione, generi elementari vari. Il tutto accadeva all'interno dell'ufficio giudiziario e presso il domicilio degli impiegati indagati. Il sistema così realizzato impenetrabile ai professionisti non conosciuti dai dipendenti pubblici in servizio presso l'ufficio del Giudice di Pace di Santa Anastasia avrebbe consentito ai consulenti inferiari di eseguire prestazioni pagate con denaro pubblico. Il meccanismo fratolento ricostruito dalle fiammeggiate è risultato così disinvolto che in un'occasione sarebbe stata persino documentata l'assegnazione di una consulenza per un incidente stradale ad un geometra privo dei relativi titoli abilitativi. Il sistema illecito si è esteso anche ad alcuni avvocati legati tra rapporti di stretta amicizia con indipendenti pubblici i quali, dietro erogazioni di periodica utilità, si garantivano libero accesso agli uffici e in maniera indisturbata sottraevano documentazione da fascicoli e sempre con la compiacenza di cancellieri e operatori giudiziari ottenevano l'anticipazione delle pubblicazioni e delle sentenze alterando il normale ordine cronologico. Infine, nel medesimo contesto investigativo, il Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria di Roma ha anche accettato l'utilizzo di valori bollati contraffatti da parte di due avvocati. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!